L'espresso? In tazza di vetro. E con locale? Cicale, cicale, cicale. Cosa fa il treno in stazione? Staziona. In banchina? Bianchina. In galleria? Galleggia. E fondamentale in un treno a levitazione? L'impasto. Cosa c'è prima del tunnel della manica? Il traforo del polsino. Se quando ti avvicini la barriera si abbassa, cosa fai? Tiro a pallonetto. Cos'è la traversa? Quando sbaglio il pallonetto. Sei in banchina, come mai? Perché ho sbagliato il pallonetto. Senti il fischio dell'uomo in divisa, cosa significa? Fine primo tempo. Intercity? 1 a 0.